Un caro saluto da Mario Giuliacci. Il tempo previsto per mercoledì 16 giugno. Una novità, cambio di regia sullo scenario del tempo sull'Europa, se ne va l'anticicolone della Zorre che si è reso protagonista di un'anomola ondata di caldo e al centro-nord invece arriva il rovente anticicolone nordafricano, anche se non durerà probabilmente più di 5-6 giorni. Cosa ci sarà nella giornata di mercoledì? Pochi fenomeni, qualche solato temporale di calore sulle Alpi, sul Piemonte e sull'Alta Toscana. Massimo intorno a 30-33 gradi sulla pianura padano-veneta, tranne le coste, sull'interno del centro e interno della Sardegna. 25-30 gradi sul resto dell'Italia.